La rimonta della Calabria dipende anzitutto dai calabresi, così come per ciascuna regione meridionale. È una responsabilità che la politica regionale deve sapere assumere e deve sapere trasmettere. Il linguaggio della verità è la premessa di una riscossa che può avvenire soltanto attraverso una partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, della società civile. Creare nel Paese lavoro, il lavoro che manca, è la prima delle priorità. Dare un futuro ai giovani, in Calabria come in Italia, è condizione della tenuta stessa della nostra nazione. Ogni discorso sulla ripresa deve necessariamente affrontare questo nodo, il nodo dell'occupazione. Il contesto è particolarmente difficile, ma lo scoramento va combattuto con la serietà dei propositi e con la coerenza dei comportamenti, perché riuscirvi è possibile. E faccio eco alle parole di Pocanzi e del Presidente del Consiglio regionale.